Alla fine la Pistoiese a rimanere con l'amaro in bocca per aver assaporato per 76 minuti la vittoria contro la capolista Livorno, dovendo poi invece vedersi sfumare il successo con il pareggio degli ospiti. Al Marcello Melani la squadra di Mister Indiani per larghi tratti ha tenuto testa alla prima della classe, collezionando le migliori occasioni da gol. Dal primo minuto in campo i nuovi arrivati, così a centrocampo si posiziona Picchi, con Ardini a sinistra, in difesa a quattro, Ecco Terigi e in attacco la coppia Ferrari-Surraco. E parte così il buon primo tempo degli arancioni, padroni di casa subito in avanti senza timore, con Ferrari che si vede di Renault da Mazzoni. L'unico vero sussulto a Maranto si è intorno al ventesimo, vantaggiato prova a superare Zaccagno, ma c'è Regoli pronto a salvare sulla linea. Poi Minardi spara alto, mentre intanto crescono i brividi e al quarantunesimo si sblocca il loco. Terigi lancia a lungo per Franco Ferrari che strappa il pallone, batte Mazzoni con la rete dell'1-0. Nella ripresa la Pistoiesi avrebbe anche l'opportunità di raddoppiare in diverse occasioni, con la risposta dall'altra parte che non preoccupa affatto, anche se inevitabilmente la squadra di Sottile non ci sta a perdere e preme sull'acceleratore. Il tecnico del Livorno le prova tutte, inserisce Perez, Murilo e Bruno, togliendo Dumbia, Manconi e Cabasci, ma Amlili e compagni tengono ancora in mano il gioco, soffrendo forse qualcosa di più sulle fasce. Iniziano i cambi anche per Indiani, esce Picchi, dentro Papini, poi tocca anche a Surraco abbandonare il campo per Decenco e Nardini lascia il posto a Zappa. Al 76esimo arriva il pareggio del Livorno e Murilo a punire la Pistoiese con il gol dell'1-1. Un finale acceso, entrambe provano a chiudere la partita, ma non c'è più tempo e il match termina così, con la divisione della posta in palio. Pistoiese sempre in zona play-off, dopo una grande prestazione che ha messo in crisi anche i fuori classi avversari. Ad essere più preoccupato è sicuramente il Livorno. Due punti in tre giornate sono segni di una crisi? Peccato, peccato perché forse meritavamo noi. Abbiamo fatto una grossa gara, peccato, peccato davvero, però nello stesso tempo enorme soddisfazione perché fa una partita alla pari così con la polista è una grossa soddisfazione davvero. Una bella prestazione, bene anche i nuovi arrivati. Sì, bene i nuovi arrivati, però abbiamo dovuto fare due ambi obbligati e chi lo sa, appunto, ti domanda se non sia stata quella la svolta e la gara. C'è un pizzio di rammario nel go subito perché tutti fermi. Io addirittura alla panchina avevo avuto la sensazione di avesse fischiato l'arbitro perché non mi riuscivo a capire mai, erano tutti fermi, però succede il loro, la bravura sua subito di trovare il gol in quella situazione. Tutte le altre eravamo stati bravissimi. Il messaggio di oggi è chiaro, il messaggio di oggi è direi quasi entusiasmante, però ci vuole sempre le ultro prove. Lezione di calcio, è un grande meteo, complimenti. Presidente, è troppo buono. Presidente, sul genuinely amtendoro. -